Tu non sei Alberto Sordi? Ah no? No, tu sei Noschese. Ah sì? Non so Alberto Sordi? No, tu sei Noschese, te lo dico io. Che ti vuoi guadagnare? Se mi intermitanno il tale? Eh? Dico? Noschese sta là. L'ho visto dietro ai quinti. Ah sì? Chiamalo. Ah sì? Controlla. Al Viero! Noschese! Vieni un po' qua! Vieni! Vieni un po' qua! Io vorrei sapere esattamente chi di voi due è sordi e chi è noschese E prova un po' tu allora a fare l'imitazione di sordi Un momento qui c'è solo una maniera per sapere chi è il vero Però assomigliano a noschese così C'è solo un modo per sapere chi di voi due è Alberto Sordi La prova a telefono Ecco date un po' un telefono Sì sì ecco avanti adesso chiamate Mario Pio Pronto Mario Pio pronti in chi parla in chi parlo io? Con Nino Manfredi? Qual è quello che fa tanti film ma è meglio che non li vedi? Che piacere son Manfredi Con chi può parlare? Con Manfredi Nino? Quello che quando parla c'ha la voce da furino